Federica Galli è sguardo, è sguardo interpretativo, inventivo, ma anche di bellezza. È stata capace di guardare le cose, ma in modo particolare la pianura, la natura e l'architettura, con uno sguardo assolutamente individuale. E questo sguardo assolutamente unico e inedito ce lo regala attraverso la pianura padana, ma anche quando riprende i monumenti iconici e ancora di più questo si esprime con Venezia, in cui è riuscita a darci una Venezia del tutto inedita. Lo sguardo è anche uno sguardo generoso, quindi non solo ci restituisce bellezza, ma cerca di restituirla al maggior numero di persone possibile. Non è casuale che intraprende la carriera dell'acquafortista con una tecnica seriale in cui c'è la possibilità di accogliere e di diffondere il proprio segno al maggior numero di persone possibili. Green Grand Tour è il titolo della mostra che si tiene a Palazzo Norando in collaborazione con la Fondazione Federica Galli, appunto intitolata a Federica Galli. Grazie a tutti!